Sì, sì, sì. Come mai? Cosa hai? Sulla parecchietta cosa hai? Cosa hai? Cosa hai? Fallò! Sì, ma non volontario. Assolutamente non volontario. Sì, perché lì c'era la vecchia. Cosa hai? Sì, sì, sì. 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 Non so come viene. Ciao, merca. Ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao. Non fischia. Bello, bello. Vai Ale. Vai Ale. No, è buono. No, è buono. Sc mother. Ciao, ciao. E' buono. Ok, buono. 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 Buongiorno a tutti. Non far fallo, non far fallo. No, nessuno che la guarda quella lì. Non far fallo, non far fallo. 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 Grazie. 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 Fuorigioco. Grazie. Aspetta tu. Perché lo spezza? Fallo. 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 Va del tiro. Va al tiro. Ehi! Ma non so. Per sentence. mi preparo guarda non ne tiene un non ne tiene uno di palla 1 3 3 3 5 6 Emanuela! 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 Tira! Ma gliel'ha portata via! No! Fagliela finta! Gli prendi il calcio e hai rigore! Comunque... Mano! No! 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 Occhio! No! Ti va il mio smu! Bravo! No! Bravo! 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 U minutos depois! perché non può cacciare la terra? ciao è sempre con i piedi cosa lo tiene? chi è quel grido disperato? dai dai fuori 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 si perché ancora attivano all'altra tv dai sampa allora quindi ti provi a riferire dai 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 Oh, non te lo so io, te l'ho dato mio coi, io sono solo, solo metto sull'applicazione, però così con quel macchinino lì niente, non l'ho mai visto. Dai, ciao Milti, ciao ciao ciao. Vado, vado, vado. Vado, vado, vado. non vedo niente giallo però a palla lontana secondo me è giallo questo è un giallo e dai 2-1 per noi l'ho chiamato ha preso la travesse è tornata fuori e poi dopo è capitato è capitato lo rivedrete ponte questo è fallo però nooo non ci credo 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 Grazie. 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 È bleù, è bleù. Dai, dai, dai. Dai, 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 dai. Sì, sì, questo no, questo no. Non è Raffaele l'ultimo. Sì, però... Palla, ma adesso la pia, con la gamba. Arbitro! 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 Ma sono palli, Trelli! Questa è fuorigioco? Dai, caddeci. C'è un giocatore a terra! Questo è fallo. Ed è giallo, forse. C'è un giocatore a terra. C'è un giocatore a terra. ... ... ... ... ... ... Ehi, vabbè. Bravo, Andrea. Ehi, che l'ho messo a terra o no? Quello che l'ho messo a terra, niente, non ti corre. Andiamo pure. Mamma mia. No, è buona, è buona. No, no. Sul secondo era fuori. Non c'è taglio. Vai, figlio. No, anche rimbalza. Questo è come rimbalza. Cambiato. Non era fuori. C'è chi lì a posto segnalato. S'era stato poi fuori. Dai, crediamoci. Però... Fallo. Non fischia. Questo non fischia. Hai cascato sui piedi. Vero? le mani non è fallo dai aggredisci che la sbaglia no no ha difeso la palla non è fallo così questo è fallo guarda guarda c'è il tre ok bravo 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 che brutta palla che adesso questa qui giallo mi hanno dormito qui però tanto si gode tutto da quella parte mi ha dormito qui e e Grazie a tutti. 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 a tutti. Grazie 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 a tutti. a tutti. Grazie 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 a tutti. finita. grazie a tutti. Grazie a tutti. grazie a tutti. a tutti.